Sono le 5 di mattina ma debbo pontatinare. Allora buongiorno, benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo un po' tutto il decorso del fare mercato inter in vista in virtù della prossima stagione che verrà e devastate di like, guardatevi tutti i video fatti. Quest'oggi affrontiamo una questione annosa, annonaria, che è il discorso del portiere dell'Inter. Lo affrontiamo per svariati motivi. Allora il primo motivo è che se l'Inter deve fare delle cessioni per avviare il mercato in entrata, io ragazzi i due nomi che vi vado ad indicare, ma credo io che razionalmente tutti possano concordare, i due nomi più sacrificabili sono quelli di Onana e Danfris. Perché se l'alternativa deve essere quella per fare mercato in entrata di cedere chi? Bastoni? Insomma, preferisco evitare. Barella? Preferisco evitare. Brozovic che ci fa i 15-20 milioni, 25... ma assolutamente no. No, oltretutto se c'è di Onana è tutta plus valenza, è tutta plus valenza, ok? Se sei bravo c'è di Onana e Danfris, io credo che una sessantina, settantina di milioni, forse anche qualcosa in più riesci a ricavarla. E vai a cedere due giocatori a mio avviso sostituibili. Perché per quanto possa piacere Onana, per quanto possa convincere, per quanto si possa volerlo confermare, però diciamocelo chiaramente, è pur sempre un portiere. Se a me dicono preferisci vendere Onana o Barella, ma con tutto il rispetto preferisco magari anche a malincuore, ma tutta la vita se devo scegliere mi privo del portiere. Quindi questa è la prima questione, cioè che Onana è comprensibilmente, razionalmente, se devi far mercato in entrata cedendo uno dei primi della lista che vado a cedere, se non altro per il fatto che essendo arrivato a zero ti invoglia a fare questa plus valenza qua. In secondo luogo faccio anche questo video perché la prima alternativa in caso di cessione di Onana, cioè Vicario è saltata, cioè sembra molto lontana da altre squadre, sembra essersi accordato col Tottenham, quindi faccio questo video di Pontatine per dirvi gli eventuali sostituti che io vado ad indicare. Sono tre, non è che sono tantissimi, sono tre e ti succede una volta nella vita. Allora, il primo è quello che ho inserito nel cattomercato, Vlacodimus. E' un portiere che da tempo mi piacerebbe vedere all'Inter perché c'ha proprio il physique du role da Inter, secondo me molto esiziale, è un portiere di cui si parla un po' poco, ma è un ottimo portiere. Io credo che anche il Benfica non so quanta resistenza farebbe, cioè nel senso non credo che ti chieda cifrone per prenderlo, un po' perché non è vecchio ma non è neanche di primissimo pelo. In secondo luogo perché proprio per il suo non essere di primissimo pelo e conoscendo il Benfica può anche essere che il Benfica voglia andare magari a prendere un grande prospetto giovane per mettersi anche in porta, così come ad altre parti del campo, un giocatore che magari tra un anno o due anni ti vale 80 milioni. Fare una roba alla Joe Felix magari col portiere, perché il Benfica è capace di questo. Quindi Vlacodimus può anche essere un giocatore che ti porti via veramente a pochi soldi, è un buonissimo portiere con esperienza internazionale, nazionale greco, titolare se non erro, te lo porti a casa con pochi soldi ed è assolutamente un portiere solido, che dà garanzie, è importante. Quindi il mio primo nome è quello. Come secondo farei una piccola scauta, anzi piccola, una bella scautata, perché io questo portiere qua all'Inter ce lo vedrei da Dio, questo che vi sto per dire, che è il buon Bento. Bento, portiere brasiliano, Bento, portiere brasiliano, che a me piace molto. Portiere di personalità, portiere solido, portiere di carisma, portiere lavorabilissimo. All'Inter per me, se tu compri Bento, puoi avviare veramente un ciclo con lui che può essere anche veramente di tanti, tanti, tanti anni. Adesso, non voglio esagerare, ma voglio, può diventarti il nuovo Giulio Cesare da partorire in casa. Quindi Bento assolutamente da coibentare e da tenere d'occhio. Chiudo con un'altra chiamata che non si può definire scautistica, però chiudo con un portiere estremamente giovane, che stiamo vedendo in azione, oltretutto anche ai mondiali Under 21, vi sto parlando di Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia, che con un po' di coraggio, con un po' di vision, non economicissimo, perché credo che il valore li eviterà e credo che il Valencia chieda giustamente i suoi bei soldi, però se ti prende lo schizzo che dici, oh, ho fatto i soldi, il mercato è entrato, lo posso fare, mi si è sbloccato l'indice di liquidità, ho ceduto, cazzo non so, metti caso che fai veramente una campagna cessione aggressiva, tipo il Milan, puttacaso, e per il portiere ti viene su un budget importante, e su Mamardashvili è una bella cifra, l'Inter potrebbe anche buttarcela. Quindi questi sono i nomi che vi vado a fare. Va via Onana? Ma io drammi non ne farei, o meglio, chiaro, a tutti piacerebbe avere una società che non ha bisogno di vendere per fare mercato in entrata, però, siccome non sembra magari il caso dell'Inter, e visto che magari devo cedere qualcuno, piuttosto che andare a cedere Bastoni, piuttosto che andare a cedere Barella, piuttosto che andare a cedere Brozovic sotto costo, vado assolutamente a cedere Onana, che se sei bravo, insomma, fai tutta plusvalenza, possono arrivare svariate decine di milioni di euro, e Danfries, sono questi i giocatori che io andrei a cedere per fare mercato in entrata. E lì, e Onana lo sostituirei, ripeto, con uno tra Vlacodimos, Bento o Mamardashvili. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto. Grazie a tutti.